Abbiamo istituito parcheggi, spostati i distretti, creato degli ascensori, create delle rampe, ma chiaramente è un punto di partenza perché sono ancora moltissimi i punti critici. Il distretto sanitario di Via Rieti a Pescara sarà accessibile a tutti e si va verso l'istituzione di un gruppo di lavoro che si occupi di disabilità. Presentati questa mattina, alla presenza anche del direttore generale dell'ASL Vincenzo Ciamponi e dell'assessorelle disabilità Nicoletta D'Inisio, i lavori di ristrutturazione e di abbattimento delle barriere architettoniche fortemente richiesti dall'associazione Carrozzine Determinate. Ristrutturato il fabbricato, qui oltre a diabetologia sarà trasferita anche la medicina dello sport. Alcuni dei lavori sono già conclusi, mentre altri termineranno entro quest'estate. Così il distretto sanitario di Pescara Sud diventerà accessibile non solo a disabili in carrozzina, ma anche ad anziani e mamme col passeggino. Abbiamo finalmente risolto delle problematiche datano da tanti anni. È stato un intervento apparentemente semplice, ma invece complesso, perché quell'edificio non è nostro. Quindi abbiamo dovuto parlare con i proprietari, che è una struttura che è l'IMS, l'ex-IMS, l'INVIM. E quindi è stato necessario un lungo lavorio, perché questi lavori ci fossero concessi gli altri piani di quel palazzo e quindi fosse pure realizzato un accesso più facile del montacarichi, che spesso si rompeva. È stato un lungo lavoro, a dire il vero. È cominciato prima dell'epidemia. Importante novità, però, è la possibile istituzione di un tavolo tecnico permanente che accolga le stanze dei cittadini disabili. Dalla ASL e dal Comune ci hanno detto sì, esulta Ferrante. La cosa molto importante è che, oltre ad aver realizzato tutto questo, oggi hanno detto sì alla nostra proposta la creazione di un gruppo di lavoro tecnico, in modo che possa raccogliere quelle che sono le stanze delle persone con disabilità, sia per l'accessibilità che per la fruibilità dei servizi sanitari. Ed è una cosa straordinaria, unica in Italia. Siamo davvero entusiasti e felici che hanno raccolto questa nostra grande proposta. Il contavolo tecnico permanente che si occupi di queste questioni, se si passasse dalle parole ai fatti, sarebbe la prima volta in Italia. È la prima volta in Italia, assolutamente sì, ma soprattutto dà un valore anche all'istanza del cittadino, perché poi spesso i cittadini hanno disservizi, protestano, ma poi la protesta finisce lì.